E ho rapito da dietro le quinte Stefano Mazzotti che è il fotografo ufficiale del Muevete. Stefano, ciao! Ciao! Che cos'è, com'è essere il fotografo ufficiale di un evento di questo genere? Al di là che dopo due giorni avrei perso 20 chili anche se non ne hai bisogno a forza di correre fra tutte queste sale, fra tutti questi stage. Ma com'è la tua opinione? Beh, direi che è un'esperienza assolutamente unica, è un qualche cosa che si differenzia dal solito fare fotografie o dai soliti eventi, quindi è un qualche cosa di veramente particolare, molto emozionante. E tu, che sei un ballerino, quando entri in una sala che ti metti a fare le foto non ti viene da dire oddio aspetta mollo la macchina fotografica vado a ballare anch'io? L'ho fatto. Non lo diciamo a nessuno. Meglio di no, meglio di no. Allora lascia andare Stefano che proprio ho rapito in questi due secondi per fargli dire due battute, grazie. A te. Ciao a tutti. Ciao. Buon lavoro.